Il miglior mondiale 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 Sindaco, questi campionati mondiali di questa specialità in una struttura di questo territorio accendono i riflettori ancora su tavoli e sulle sue potenzialità dal punto di vista sportivo ma poi sappiamo che da qui partono tanti altri progetti Sì, ancora una volta siamo protagonisti come territorio, questo ci fa molto piacere, è un orgoglio come in tutte le cose c'è l'onore e l'onere poi da sostenere però è stata una valutazione importante quella di accogliere un campionato del mondo perché un conto è ospitare dei campioni del mondo che sappiamo molto noti ovunque e un conto è ospitare un campionato del mondo per quanto sia uno sport ancora un po' d'elite, non un po' polare però si parla di oltre 30 paesi del mondo che parteciperanno 3.000 atleti, sostenitori, famiglie quindi ci saranno parecchi lavori da fare e cercare di farli bene E importante sarà appunto dare una bella immagine di questo territorio Sì, noi faremo quello che siamo solitamente accoglieremo le persone nel miglior modo possibile siamo un territorio ormai conosciuto per l'accoglienza sappiamo che i marchi Romagna sono dei posti famosi per l'ospitalità cercheremo anche di fare in modo che le persone che verranno conoscano un territorio più ampio che è meraviglioso e va dal mare alla montagna quindi tutto quello che possiamo offrire lo faremo lo faremo anche con umiltà, dicevo perché non possiamo pensare di essere paragonati a Londra o San Pietroburgo che hanno ospitato questi campionati del mondo in precedenza fa sorridere solamente poterci confrontare cosa non possibile però faremo del nostro meglio accettiamo la sfida di sostenerlo Ad entrare nel dettaglio delle caratteristiche del mondiale è stato Alberto Pacassoni figlio di Oliviero che con grande orgoglio dopo aver già ospitato i campionati europei di Compaq nel 2013 ha spiegato quali innovazioni siano state apportate per la realizzazione della competizione oltre alle sei macchine presenti su ogni campo e che automaticamente tireranno fuori i piattelli la novità è che ci saranno proprio diversi tipi di piattelli da quelli colorati ai piattelli fumogeno si gareggerà su un totale di 200 piattelli in queste quattro lunghe ed intense giornate dal punto di vista della gara in sé ci sarà l'Inghilterra che forte di una tradizione e di una cultura per questo sport molto in voga nell'intero paese sarà sicuramente la nazionale da battere l'Italia invece si difenderà con una batteria di 20 atleti tra cui da menzionare c'è sicuramente la famiglia Spada di Foligno autentici campioni nel nostro paese presente anche il CONI provinciale con il presidente Alberto Paccapelo si può dire che questo è l'evento più grande più importante almeno in questa provincia per quanto riguarda questo 2018 e le manifestazioni sportive? Beh, senz'altro, un mondiale è sempre un mondiale quindi direi che per la provincia è sicuramente il più importante poi sono appeso, hanno avuto anche delle altre manifestazioni però a livello di comuni della provincia di piccoli comuni come Tavoli è sicuramente una cosa straordinaria perché diciamo che organizzare una cosa così un paese come Tavoli, come Rio Salso è veramente una cosa impensabile facendo appunto il paragone con le precedenti edizioni che erano a Londra e San Pietroburgo quindi città con milioni di abitanti con tutte le altre strutture Lei ha parlato di sport ma anche di indotto di possibilità per questo territorio di mettersi in mostra Senz'altro questo porterà un beneficio a tutta la zona perché 700 persone con tutti i familiari arriveranno a oltre 2000 quindi alberghi, ristoranti, distributori di benzina tutto quello che gira intorno ai movimenti delle persone è veramente un importo di denaro fresco per il nostro territorio che non fa male Sport e turismo, grandi eventi per creare possibilità anche economiche, anche occupazionali non è un caso che a collaborare nella gestione di alcuni servizi logistici del Mondiale ci sia la Confcommercio Pesaro Urbino il suo tour operato Riviera Incoming sentiamo il direttore generale Amerigo Barotti La famiglia Pacassoni ci ha contattato l'anno scorso dopo l'assegnazione all'Italia e alla loro società la gestione e l'organizzazione di questo importantissimo evento ovviamente la famiglia Pacassoni ha organizzato tanti altri eventi anche a livello europeo qui a Rio Salso e si era valsa della collaborazione anche della nostra associazione albergatori in passato in questo caso hanno chiesto la collaborazione diretta di Confcommercio per la logistica, l'organizzazione anche degli eventi dalla nostra agenzia di viaggio al nostro tour operator per segnalare le strutture ricettive idonee ad ospitare i tanti atleti che verranno qui a Tavuglia, a Rio Salso le famiglie e per disporre anche un pacchetto di accoglienza per le famiglie quindi noi ovviamente siamo stati felici di questa richiesta tenendo conto dell'importanza internazionale dell'evento e degli effetti promozionali anche per il futuro che questa manifestazione avrà un evento che genererà un indotto economico notevole per tutto il territorio con i primi arrivi previsti diversi giorni prima dell'inizio delle gare a beneficiarne saranno le attività economiche di alberghi, ristoranti, bar, negozi ma i mondiali saranno anche l'occasione per far conoscere il territorio e le sue eccellenze il tutto in un quadro organizzativo complesso che vede di nuovo la Confcommercio scendere in campo per chiedere al governo un intervento differenziato sulle norme relative alla sicurezza nell'organizzazione degli eventi da alcuni anni lo sport, gli eventi sportivi sono diventati il salvataggio la ciambella di salvataggio del turismo della nostra provincia gli eventi sportivi richiamano sempre più partecipanti per fortuna c'è molta gente che pratica a tante discipline sportive e noi abbiamo una provincia con strutture straordinarie come è una struttura d'eccellenza questo campo di Rio Salso il tiravolo di Rio Salso che è un'eccellenza nazionale se non internazionale quindi l'effetto immediato è avere 700 atleti 31 nazioni più di 2000 persone considerando i familiari ma l'effetto auspicato è la promozione futura che può derivare dalla presenza massiccia di tanti stranieri che in queste giornate dal 22 al 26 di agosto avranno l'opportunità di vedere anche il nostro territorio le eccellenze e le bellezze del nostro territorio noi abbiamo deciso di rivolgersi direttamente al ministro dell'interno Salvini per arrivare ad una modifica delle disposizioni che attualmente sono state impartite per la gestione degli eventi pubblici sono disposizioni che non fanno distinzione tra la sagra paesana e il grande evento con 100.000 persone e questi aspetti assolutamente burocratici richiedono costi aggiuntivi pesanti per chi organizza eventi la messa in cantiere di ingegneri progettisti la sicurezza costi che diventano insopportabili per gestire piccoli eventi noi stessi in questi giorni con l'organizzazione di sulle strade della bellezza questi eventi che stiamo organizzando nei quattro comuni degli itinerari della bellezza abbiamo per fortuna avuto il supporto dei comuni altrimenti diventava improbo il compito di fare questi eventi tante sono gli aspetti burocratici e non solo a cui dovevamo adempiere quindi speriamo in una semplificazione che almeno distingua il piccolo evento la sagra paesana la festa della Proloco e in tal senso c'è anche l'accordo con il presidente della Proloco dell'UMPLI e Bartocetti dal grande evento di livello mondiale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti